44 minuti e 26, sapremo tra poco quanto ci sarà ancora di recupero, ferma intanto tutto De Rossi, palla per Mirko Pucinic, il tocco per Taddei, lo scambia ancora con Brighi, lo scambia al volo con Sisigno, sopra la trascetta del campo, lancio lungo per Mirko Pucinic, guarda che c'è i giuliti qua, il tocco per giulì, in aero di rigore, giulì, tira, go! GOOOOO! 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 Spidi Gonzalez, Spidi Gonzalez, Spidi Gonzalez, il gol numero 6 anche per lui, e chiudiamo la partita, il terzo gol per la Roma, è il 3-1, e chiudiamo la partita e torniamocene a casa, torniamocene a casa con questi tre punti, esulta anche il capitano, esulta anche il capitano dalla panchina, 3-1, 3-1, 3-1, per la squadra giallorossa, risultato che ci sta veramente tutto, al 45-6 il gol di Rutovic e Sciullì, il gol di Spidi Gonzalez, ha ricevuto palla all'interno dell'aero di rigore, un diagonale, per Andanovic, nulla da fare, l'Udinese, che veniva da 7, risultati utili consecutivi, bloccata dalla Roma, bloccata dalla Roma oggi, 4 minuti di recupero, 4 minuti, 3-1 per la Roma, Himmler, pallone per Zabotokni,